non figurato la vita per la vita attraverso mario del giglio luigi vedi caro nipote non puoi credere di ottenere la mia protezione attraverso l'immagine che qui hai questo era sufficiente all'inizio ma dimmi a cosa serve fare questi riti questi riti che ti abbiamo insegnato a non valutare perché ciò che si ha interiormente che vale e non ciò che si professa esteriormente e questo l'insegnamento non praticate i riti perché essi fanno sentire tutto come un inganno spirituale e non fanno sentire ciò che siamo e vi fanno sembrare che ci sia un intervento immaginario e senza senso tutto questo non è conforme alla nostra fede al nostro credo che è quello di togliere dal vostro bagaglio di conoscenza tutta una serie di fattori e di insegnamenti che sono più vicini al paganesimo che alla vera fede che dovete imparare a praticare ecco perché ti viene detto di togliere la mia immagine perché essa ricorda come io ero ma vorrei che tu mi ricordassi come io sono per ciò che insegno spiritualmente tu puoi non capire quello che dico ma è la verità credimi da questo momento non mettere più la foto sul tavolo ma dentro di te devi avere la convinzione che avverti per starmi vicino spiritualmente in modo non figurato noi siamo vicini se siamo in sintonia come adesso e potremmo metterci in contatto non solo attraverso una figura una foto un'immagine è significativo quello che sto dicendo e non come tu credi falso devi credere questo per chiamarmi devi sentire questo contatto che è più spirituale che materiale dimmi se hai capito era doveroso farti capire perché le cose con il tempo devono cambiare non si deve tornare indietro ma si deve andare sempre avanti nota 7 figurato attraverso la fotografia